Fra Tommaso, il Santuario delle Vertighe accoglie le riliquie del sangue di San Francesco, una bella occasione per gli 800 anni delle stimmate di San Francesco. Sì, è una grande opportunità, è un privilegio che veramente la Chiesa e i Frati della Verna ci offrono per il nostro santuario, proprio per ricordare gli 800 anni di quelle stimmate di San Francesco che l'hanno fatto sempre più simile a Cristo Crucifisso. Questo aiuta anche noi oggi, dopo 800 anni, a rivivere quello che ha rivissuto San Francesco, cioè ad avvicinarci sempre di più a Cristo Crucifisso, cioè a vivere ogni giorno con lo sguardo fisso su di Lui. Chiediamo a San Francesco in questi giorni di renderci sempre più simili a Gesù, Autore della vita e Signore dell'Universo. Vescovo Andrea, oggi è una bella occasione al Santuario delle Vertighe per l'accoglienza della riliquia del sangue di San Francesco, che sta girando proprio per questa bella occasione degli 800 anni delle stimmate di San Francesco. È una grazia per tutta la diocesi, anche per me personalmente, perché sto vivendo diversi di questi momenti di itinerario, di peregrinazio delle riliquie di San Francesco e quindi è davvero motivo di grazia e di benedizione. Ma lo è per la nostra comunità, perché è un annuncio bello di misericordia, è una pagina di Vangelo, è una celebrazione dell'incontro con il Signore Risorto, che risplende anche nelle riliquie di San Francesco. E quindi davvero è dono, grazia e incontro di Pasqua.